17. Infinitamente. Maestri spirituali, guide spirituali, istruttori, avatar, parapsicologia, corsi di spiritualità, energie, applicazioni, contatti, gruppi carismatici, incontri di preghiera, pellegrinaggi, apparizioni, guarigioni, UFO, reincarnazione, bioenergie, biodinamiche celeste. Insegnamenti trascendentali, contatti alieni dall'alto e alieni rettiliani dal basso. Alla fine, a chi dobbiamo credere, guida a tutto ciò che risuoni nel vostro intimo e poi, quando siete pronti, solo al vostro intimo, che è già tutto quello che hai detto, è infinitamente di più, perché il vostro intimo è la scintilla divina. Alla fine. Alla fine. Alla fine.